Si presenta con un programma comune in 11 paesi europei, il Partito Pirata, tra le liste in campo alle elezioni del 26 maggio. Tra i punti tutela della privacy online, sostenibilità ambientale e contrasto alla legge sul copyright. Il Partito Pirata nasce per liberare la conoscenza e renderla disponibile a tutti. A farlo saranno dei candidati che non sono professionisti della politica ma sono professionisti nelle loro vite.